L'UXI Ciao, Fra. Ciao a te. Come va? Tutto bene, te? Come stai? Bene. Quando mi sono sposata, io pensavo che era diverso. A te non ti sembra che mi entri qualcosa? Ancora ho questa storia? Quando si separano, gli uomini diventano miserabili. Io ho scoperto che Marco c'ha uno. Lui è amico di mio nonno. Sì, sì, è brutto, però sono tutti così. Chi è questo signore? È il mio dottore. Tu torni alle tre di notte con il tuo dottore. Cosa fa? Anch'io ti ho tradito. Che hai detto? Non ho capito. È grave? No. Sì. Ma avete fatto un casino? Io mi sa che sono innamorata. Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. No! Quando non vuoi più spiegare nemmeno un minuto. T'avevo innamorata pazza. Sì? Sì. Sì. Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino. Sì.